Alla guida del suo SUV aveva investito un ciclista e poi si era dato alla fuga a tutto gas. Adesso il pirata della strada è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato per omissione di soccorso. L'incidente era avvenuto circa due settimane fa lungo la provinciale Sette Ponti. Qui il ciclista, un giovane di Mercatale Valdarno, era stato travolto all'imbrunire. Il pirata della strada era poi scappato via senza prestare soccorso. Il ferito, con la bici completamente distrutta, era comunque riuscito a chiamare i soccorsi e farsi accompagnare all'ospedale della Gruccia. Dopo essersi ripreso dallo spavento e tornato in forze, il giovane si è rivolto ai carabinieri di Bucine per presentare denuncia per quanto gli era accaduto qualche giorno prima. È così scattata la caccia all'automobilista. Le indagini dei militari si sono incentrate inizialmente soprattutto su quanto raccontato da chi era stato testimone dell'incidente e poi sul successivo studio dei circuiti di videosorveglianza comunali che si trovano lungo la Sette Ponti. I carabinieri sono così riusciti a risalire prima al modello del veicolo e successivamente alla targa, che ha consentito di identificare senza alcun dubbio il responsabile. L'uomo, privo di precedenti penali, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per omissione di soccorso e lesioni colpose.